Musica Proseguiamo il tour con Sperlonga Ci troviamo esattamente all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga Il parco archeologico è la villa di Tiberio a Sperlonga Musica Un saluto da Gaeta Buongiorno e invitiamo tutti a partecipare ai tour di Tour Eventità Musica 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 Non vedete scappate perché non è così Le guatte sono complicati Accendere il tabla fatto Eeeh 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 Stiamo arrivando a Ponza Eeeh 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 Siamo appena arrivati alla Abbazia di Casamari Eeeh 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 Eeeh